Poi ancora Daniele Sablone per il punto vincente. Una finale maschile spettacolare ha chiuso la terza tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio a Maccarese. La coppia Daniele Sablone e Emanuele Bondini ha sconfitto al tiebreak Luca Ciccarelli e Alessio Fornaro. Abbiamo trovato la forza per poter fare quello spunto nel secondo set e poi il tiebreak ce lo siamo portati nel nostro ritmo. Emanuele Bondini a un certo punto sembrava stanchissimo, poi è sopperito con la tecnica e con l'aiuto anche di Daniele. No, loro sono stati molto bravi nella fase di battuta, ci hanno messo in difficoltà soprattutto in quella fase e il secondo set soprattutto abbiamo fatto un po' di fatica nel cambio palla. Già avete vinto due tappe, adesso mancano la TNOS, ci sarete per cercare di essere campioni regionali. Com'è il programma? Allora, non era in programma, neanche queste in realtà erano in programma, però io ci sarò, lui non poteva esserci alla prossima purtroppo e poi l'ultima non si sa. L'ultima non sappiamo. L'ultima potrebbe essere una sorpresa. Potrebbe essere una sorpresa l'ultima. Potrebbe essere una sorpresa. È pronta Rocci questa volta a chiudere, si alza e colpisce questa volta, è fatta. La finale femminile invece è stata dominata da Giulia Rocci e Katia Gless che hanno superato 2-0, Eleonora Gatto ed Elisa Crasteva. È stata sicuramente una bella finale, un bel livello, bravi anche loro, però ecco con Katia ci siamo caricate, caricate, caricate e è andata nel modo migliore. Quindi poi ci siamo portate a casa questa bella vittoria. A Katia chiedo la forza di questa squadra. Io penso che lei ha una forza, io ho una forza, noi insieme funziona molto bene, così siamo completa insieme. Casualmente ci siamo dette giochiamo, proviamo e da lì abbiamo iniziato a giocare insieme e a divertirci proprio bene. L'appuntamento prima di Latina e poi Ostia per il grande finale. Sì, Latina sarà una tappa particolare, una tappa in città all'interno di un contenitore sportivo e torneremo sulla spiaggia, sul mare per le grandissime finali di Ostia al 30 e 31 di luglio. Qui vi aspettiamo tutti quanti perché ci sarà anche l'assegnazione del titolo del vincitore del Beach Tour Lazio in un contenitore di grande gioia, amicizia e divertimento in quella che è la patria di questo sport che è appunto Ostia.